La nave danese ARC Futura con il suo carico di sostanze chimiche ora si trova qui davanti al porto da cui è partita, quello siriano di Latakia, direzione Italia-Calabria, porto di Gioia-Tauro, dove la situazione è tutt'altro che tranquilla. Protestano i sindaci della Piana, gli abitanti protestano, soprattutto i portuali, che quelle 560 tonnellate di sostanze pericolose non vogliono toccarle. Ma il governo lo ribadisce, è un impegno internazionale e non possiamo tirarci indietro. Le polemiche sono scoppiate anche perché gli amministratori locali di tutta questa faccenda non sapevano nulla. La gente è preoccupata, le mamme di famiglia sono preoccupate per i bambini, ma è anche comprensibile perché si ignora quello che succederà. E questo cosa fa? Non fa altro che generare panico nella popolazione, notizie incontrollate. Poi giustamente si rivolgono al primo cittadino che è l'avanguardia dello Stato nel territorio e il primo cittadino non ha notizie ufficiali. Quindi deve stare attento a non dare informazioni e soprattutto non dare informazioni sbagliate. Palazzo Chigi annuncia che lunedì pomeriggio incontrerà tutte le parti coinvolte per chiarire le modalità di trasbordo dalla nave danese ad un'americana. Il governo dice anche di più, che il porto di Gioia Tauro è attrezzato a ricevere quei container e snocciola tutti i dati su quante sostanze definite con un generico tossiche siano già passate negli ultimi anni per quelle banchine, senza neppure un incidente. Tra il 2012 e il 2013 il porto calabrese ha movimentato più di 3.000 container contenenti materiali tossici per un totale di oltre 60.000 tonnellate. Ma chi lavora qui, i portuali, dicono ben altro. Dei contenitori IMO noi ne sbarchiamo, ma sono di categoria bassa, bassissima, fuochi d'artificio, gas normali, ma non gas di armi chimiche. Chi dice che abbiamo fatto delle operazioni del genere o l'ha fatto all'oscuro di tutte, non lo sapevamo, ma una cosa del genere non penso che l'azienda l'avrebbe mai nascosto. Certo è che qui di esercitazioni per possibili incidenti causati da agenti chimici se ne sono fatte parecchie. Come dimostrano queste immagini, girate qualche tempo fa in questo luogo, da sempre crocevia di armi e droga all'ombra dell'Andrangheta. Secondo gli ultimi dati, l'80% della cocaina che arriva in Europa dalla Colombia passa proprio da qui, dove nei prossimi giorni potrebbero arrivare centinaia di militari, uno spiegamento di forze che forse non tutti vedono di buon occhio. Grazie.